Siamo ancora qui al Simon Hotel di Pomezia unica organizzatrice della conferenza ufologica a sesta edizione dottoressa Francesca Bittarello presentiamo il fondatore e segretario del Centro Ufologico Nazionale dottor Roberto Pinotti prego bravissimo dottor grazie per avermi fatto questo onore di avere questa intervista io sono ricercatore Emiliano Babilonia non intendo di controllo mentale NK Ultra io la seguo da tanti anni sui suoi studi, sulle sue ricerche prima l'ho sentita parlare è ancora uno dei più esperti in determinati campi in determinate situazioni praticamente incresciose che stanno tante volte anche manipolando le televisioni che mettono determinate notizie che magari neanche sono vere più che altre poi spesso le informazioni non date non esistono come dicevamo prima che praticamente alcune informazioni vengono un po' cestorte io gli volevo fare una domanda nella sua esperienza a livello ufologico qual è stato il fatto più eclatante che le pensa che sia più importante di tutti più velitiero ma francamente non è facile rispondere perché a onore del vero io mi sono ritrovato ormai in 8-50 anni di ufologia militante varie cose fra le mani per cui si potrebbe parlare di un classico incontro ravvicinato dal terzo tipo come può essere presente o quello che ha vissuto la contadina di Cellina di Bucine nel 1954 Rosa Lotti dai Nelli che in pieno giorno il giorno di ogni santi si è ritrovata di fronte a due esserini di bassa statura assolutamente umani ma maturi di volto nonostante la loro bassa statura perfettamente proporzionati i quali gli hanno parlato gli hanno sottratto una calza lei le teneva in mano e un mazzo di fiori che lei voleva portare giù in chiesa una donna era il primo del giorno degli santi salvo poi buttare questa roba dentro il loro oggetto volante che era lì atterrato a bella distanza e poi ingolarsi ecco l'incontro con questa donna è sicuramente stato molto importante perché mi ha confermato uno dei casi meglio documentati al mondo in cui questa donna non soltanto ha avuto questa esperienza eccezionale ma l'oggetto è stato visto atterrare da un cacciatore è stato visto decollare da un bracconiere lei è stata vista dalla collina di fronte da due ragazzini che accudivano ai maiali quindi insomma tutta una serie di prove e contro è stata interrogata addirittura anche dalle autorità militari all'epoca è un caso quasi perfetto per certi aspetti e siamo nel 54 una cosa molto simile è capitata a me in ambito militare di indagare con i carabinieri l'esercito il caso di Torrida di Siena del 1979 anche qui la discesa di uno di questi oggetti con due occupanti scafandrati piccolini che si sono manifestati al testimone quindi sono tutte cose effettivamente importanti in questo caso tra l'altro l'oggetto ha lasciato le bruciature sul terreno la campionatura del terreno è stata poi oggetto di un'analisi da parte di una lato di Ispra a cui noi abbiamo portato i campioni che ha dato dei risultati che comprovavano sostanzialmente certe affermazioni del testimone quindi vedete che per esempio i casi di terzo tipo sono cose importanti un altro caso che per me è stato importante è stata un'esperienza diretta con altre 10 persone nel 78 per tre ore addirittura un bufo hanno svolazzato su di noi a più non posso li abbiamo anche fotografati non che questo fosse una cosa eccezionale perché si vedono soltanto punti luminosi contro il cielo nero niente di che però è servito a noi per capire che non abbiamo sognato cioè tutte queste cose fanno parte di un'esperienza di tipo personale poi arriviamo a inchieste di altro tipo io per esempio sono l'unico italiano che in epoca non sospetta in anni diversi il 91 e il 97 98 ha investigato il caso Roswell in USA conoscendo e interrogando ancora vivi i testimoni che oggi non ci sono più quindi sono tutte cose importanti un'altra cosa sono state per esempio le analisi e le conferme dei documenti noti come i cosiddetti fai fascisti che in pratica ritrodatano un discorso ufologico negli anni di 30 e spostano diciamo in Italia il paese che istituzionalmente proprio si è occupato del tema quindi sono tutte cose varie poi anche sul fronte per esempio internazionale il fatto di avere diffuso nel 94 il dossier segreto del KGB quando lo Stato sovietico non c'era più essere stato per esempio alla Camera dei Lords a parlare istituzionalmente della grande ondata italiana del 1978 su richiesta delle autorità britanniche avere collaborato nel centro francese governativo che si occupa degli UFO essere stato nel 2013 al circondazione della stampa di Washington a rappresentare l'Italia nella riunione che presso questa commissione parlamentare diciamo c'è stata in relazione al tema degli UFO sono tutte esperienze sicuramente di grande importanza che diciamo io mi auguro che poi possano servire in futuro a fare sempre di più e sempre meglio ho capito lei pensa però che le tecnologie attuali militari tipo l'ARP oppure le scie chimiche le armi ad energie diretta o addirittura questa forma di controllo mentale che viene irradiato attraverso la manipolazione anche della risonanza sensoriale o la manipolazione delle frequenze fisiologiche possa dipendere anche da tecnologie aliene ma ho seri dubbi su questo nel senso che a partire dall'MK Ultra formalmente bandito ma in realtà continuato che poi è di derivazione nazista se sbagliamo è chiaro che noi vediamo come in America si sono sviluppate tecnologie proibite tese a formi non solo di controllo mentale ma di dominio sostanzialmente della gente poi voglio dire ormai viviamo in una situazione in cui certe cose cominciano anche a essere abbastanza palesi la gente che stupidamente continua a operare su Facebook non si rende conto che Facebook è stata inventata dall'intelligence USA che invece di ideare un sistema di controllo sulla rete sta facendo in modo che gli utenti raccontino tutti i fatti loro sulla rete è da perfetti imbecilli ma d'altro canto Umberto Eco ha detto e io sottoscrivo che internet che è il sommo bene o il sommo male a seconda dei casi ha consentito a legioni di imbecilli totali di mettersi sullo stesso piano di un premio Nobel io disprezzo profondamente chi si trincera dietro un nickname e appare su internet soltanto per passare il tempo questa gente è spregevole non ha diritto neanche di aprire la bocca questo è vero c'è stato un finto mago a Milano che ha preso delle persone a caso e gli ha detto se avevano l'email oppure i social network certo questo che ha fatto gli ha chiamato ha chiamato queste persone che ha detto io predirò il vostro futuro si mise lì e cominciò a dire le cose loro cioè ti hai fatto questa cosa tanti anni fa ti hai fatto quest'altra dopo un po' queste persone dicevano ma come ha fatto a sapere queste cose che praticamente erano impossibili di sapere hanno tirato giù una tenda hanno fatto vedere che loro stavano solo sul loro sito praticamente di Facebook e quelle erano tutte le cose che loro avevano pubblicate naturalmente in tutti questi anni quindi rimane un archivio di tutti i nostri movimenti tutte le nostre cose ormai siamo schiedati totalmente se consideriamo che basta un telefonino per monitorarci a livello totale sia nei nostri spostamenti che in altro quindi diciamo ormai siamo alla merced di chi vuole usare certe tecnologie contro di noi non è difficile in tutti i suoi studi qual è la tecnologia che può essere definita militare che è rimasta più nella sua mente nella sua ma posso raccontare un episodio che è abbastanza significativo allora parecchi anni fa c'era ancora ovviamente in essere l'Unione Sovietica quindi c'era come dire la guerra fredda e la politità di blocchi ci fu un nostro collaboratore che investiva l'uniforme all'epoca il quale ci disse che dalla base di Poggio Renatico che è una base radar dell'Alto Adriatico era stato individuato una sera un UFO sul Golfo di Venezia ci dette alcuni dettagli e quindi vabbè era interessante però non sapevamo molti dettagli in più che non informazione in da e cruda mi capitò di parlarne con un colonnello pilota dell'Aeronautica Militaria a Roma e lì devo dire ho giocato io un po' sporco cioè gli ho detto ah sai mi interesserebbe parlare con te dell'episodio del e gli ho detto tutto questo è impallidito e ha detto ma tu come fai a sapere sta roba e dico e sai che ne abbiamo le nostre fonti gli ho detto io il fatto il quanto tale mi interessa la tua opinione di uomo dell'anautica su quanto è successo perché questo mi interessa e lui ha detto eh sì certo indubbiamente mi ha raccontato tutti i dettagli ed era successo questo che l'oggetto era stato individuato era chiaramente un oggetto non identificato però prima di far decolare su scramble dei caccia intercettori cosa che sarebbe stata abbastanza problematica perché poi una volta scattata operazione per farla rientrare non è comunissimo o semplice e insomma ci stavano pensando che si fa diamo l'ordine non diamo l'ordine a un certo punto è arrivato qualcuno ha detto ma scusa chiediamo il codice di identificazione elettronica vediamo se questo risponde e questo ha risposto ha risposto ha risposto è uno dei nostri caccia della base di die ma diavolo ma vai beh meno male dai tutto è risolto tutto tutti contenti due minuti loro soggetto ha una velocità folle esce dallo schermo schizza via a una velocità incredibile dice ma allora non è un momento un periodo normale che è sta roba fanno una piccola indagine scoprono che l'aereo con il quale lui si era qualificato il caccia militare italiano con cui si era qualificato era a Ghedi nella sua base di partenza in hangar e il pilota dormiva in branda nell'aeroporto anche questo colonel mi ha detto io mi auguro fortemente che si tratti dei suoi alieni perché se fossero russi abbiamo perso la terza guerra mondiale ancora prima di cominciare capite che questi giochini sono pesanti perché in pratica significa mimetizzarsi totalmente e un'altra volta c'è stato un caso clamoroso che coinvolse la base di Cervia dei caccia non dei caccia degli F-104 in discesa i quali praticamente si sono trovati in una situazione tutta particolare perché ci fu un blackout elettronico in tale sia in carlinga sia a Cervia per cui tutto buio e il problema era scendere come facevi e il secondo aereo che stava scendendo non sapeva che pesci prendere bene pur non avendo nessun tipo di controllo del mezzo l'aereo è regolarmente atterrato fino in fondo pista al buio e non è stato un pilota a guidare l'aereo e i tecnici inviati da Roma hanno cercato di capirci la cosa e non ci hanno capito nulla quindi come mai c'è questo blackout c'è la presenza di un oggetto non identificato e succede un fenomeno leggero capiamo benissimo che queste sono tecnologie che esolano dal normale come a caneto di Carolina che si spengevano le macchine e si passavano sotto le gallerie che poi si blocca certamente la canonia è un altro vergognoso episodio in cui lo stato è stato ancora una volta totalmente assente sacrificando totalmente i residenti i quali essendo numericamente pochi se muoiono per esposizione a microonde o a campi elettromagnetici chi se ne frega questo è stato di fatto calcolato d'altro canto non dimentichiamo che lo stato italiano è stato latitante in altre situazioni pensate per esempio alle situazioni dell'uranio impoverito il nostro attuale Presidente della Repubblica Ministro della Difesa all'epoca ha pervicacemente negato sempre questa cosa salvo poi essere smentito dalla Nato stessa quindi per cortesia i nostri politici dovrebbero andare tutti a casa quelli che attualmente ci governano perché non sono degni di sedere nei posti dove attualmente siedono infatti molte tecnologie anche per il controllo mentale che creano anche patologie risiche psicologiche vengono sparate da determinati radar o da satelliti in orbita bassa quando uno spiega questa cosa la gente dice ma no non è possibile è fantascienza ma che cosa mi stai dicendo? non è fantascienza il fatto è che queste cose avvengono ma naturalmente il sistema ha buon gioco a etichettare tutte queste cose come cospirazionismo oggi è un insulto ci sono termini oggi che vengono usati in chiave assolutamente negativa negativa tipo populismo costurazionismo sono vergognosi tentativi di prendere per i fondelli la gente la ringrazio per questa intervista spero di collaborare con lei in un futuro con Venomi vedremo non si può mai sapere perché no la ringrazio tantissimo arrivederci e ho Grazie a tutti.